La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto a tutti da Francesco Amodeo. Se vogliamo davvero contribuire a porre fine al conflitto in Ucraina, se siamo davvero contrari alla guerra, allora dobbiamo smetterla di mistificare la realtà. Siamo vittime di una propaganda in questo paese che non ha nulla da invidiare a quella russa. Ma le mistificazioni che stanno venendo fuori non fanno altro che alimentare il conflitto. Pensate che siamo arrivati ad invocare la pace inviando le armi. Non era mai avvenuta nella storia una tale dissonanza cognitiva. Una volta per chiedere la pace si riempivano le piazze. Oggi si riempiono di armi i container destinati agli aiuti umanitari. Si invoca la pace continuando a provocare l'invasore. Un invasore che definiamo pazzo, ma poi invece di trattarlo come tale continuiamo ad alimentare la sua follia. Si cerca la pace non attraverso le trattative diplomatiche, ma invocando una no-fly zone che porterebbe automaticamente il mondo in guerra. Si invoca la libertà dei popoli di fare le loro scelte, ma poi si perseguitano i cittadini soltanto perché la loro cittadinanza è russa. Quindi non importa che tu viva altrove o che tu abbia preso le distanze dalla guerra. Puoi essere anche uno sportivo paraplegico. Se sei russo, vai bloccato nelle tue attività. In pratica sei ormai il nuovo ebreo. Di un nazismo però che è diventato improvvisamente sinonimo di patriottismo. Quando noi eravamo in piazza a Trieste per protestare per il diritto al lavoro, non vincolato al possedimento di una tessera verde, eravamo definiti neofascisti da quegli stessi giornali che oggi ammettono che il governo ucraino si sta servendo di nazisti. Ma è giusto che lo faccia, come ha scritto l'Huffington Post. Il sottoscritto, per esempio, è un giornalista iscritto all'albo. Eppure, nonostante in venti anni di carriera io non abbia avuto neanche una denuncia per diffamazione, le mie pagine social sono tutte bloccate. Mentre al battaglione neonazista Azov, accusato dall'ONU e dall'Ocse di crimini di massa, di aver addirittura creato delle fosse comuni, Facebook ha autorizzato i post contro i russi. E persino Mentana ha legittimato la loro presenza nella Guardia Nazionale Ucraina. Quindi, in pratica, loro possono parlare. Io, per esempio, non posso farlo. Quindi stiamo chiedendo la pace alimentando queste perverse logiche guerrafeondaie, alimentando divisioni, razzismo, ma soprattutto alimentando la guerra. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto a tutti. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.